Tra l'altro tenere l'animale chiuso in un locale, signori miei, io non so che tipo di prescrizioni potrà dare, ma la legge prevede che un animale non deve essere a contatto con l'uomo. E allora dico, cosa volete fare? Tenete un animale imprigionato in una gabbia? Non deve avere a contatto con l'uomo?